Buonasera, grazie dell'invito, quindi grazie innanzitutto a voi alla presenza di questa sala, ma soprattutto grazie per l'iniziativa. L'iniziativa è inutile perché non abbia bisogno di particolari incogni, perché si tratta del nostro territorio e dunque salvaguardare il nostro territorio e la nostra risorsa e tutto ciò che già fortemente vive in una dispersione non relazionata, vive all'interno di abusi, all'interno di deprivazione, all'interno di continue acquisizioni in debite, ovviamente in questo momento è fatta dagli architetti ed è su questo che poi vorrei soffermare. Ecco, a parte degli architetti da tecnici, fatta da tutti coloro i quali sono tecnici qualificati per lavorare, per ripensare, per progettare la nostra città acquisisce certo un valore molto importante, quindi grazie per l'invito e anche grazie per l'iniziativa. Quello che mi interessa sottolineare, in quanto per primo innanzitutto sono un architetto, ecco mi interessa sottolineare due aspetti, dovrà dire il livello di collaborazione nei confronti dell'amministrazione, che ritengo essere una scelta civile molto più importante e con questo, ecco perché molto spesso questo genere di iniziative vengono, ecco questo genere di iniziative viene visto come una sottrazione da parte dell'amministrazione a quelle che sono delle proprie responsabilità, a quelle che sono dei propri doveri, invece io resto e è stato sempre il mio percorso anche personale di scelte di vita, resto convinto che le cose non si possono più fare assolutamente in maniera unilaterale, in maniera diretta soltanto in un senso, è chiaro l'amministrazione ha una serie di responsabilità e non si ritrae in alcun modo alle quali responsabilità, però io penso che, mi rivolgo chiaramente innanzitutto degli architetti, io credo che il nostro territorio se davvero ne vogliamo dare uno scenario possibile di non soltanto di far guardare ma anche di progettazione, anche di progettazione, di trasformazione, di sguardi condivisi, di scenari che tutti insieme dovremo in qualche modo dare, bene io non penso che possa nascere unicamente a unico senso da parte dell'amministrazione, da parte della qualunque amministrazione, qualunque essa sia, viviamo degli anni non soltanto difficili dal punto di vista delle crisi strutturali che ci stanno attraversando, ma viviamo degli anni di tale complessità per cui i fenomeni che riguardano il nostro territorio non possono essere unicamente visti da un unico punto di vista. Nel nostro DNA noi sappiamo che gli architetti hanno non soltanto una capacità di lettura, ma una lettura associata ad una trasformazione immediata dei fenomeni con i quali abbiamo a che fare dunque se si tratta di un fenomeno quale questo dell'antiabusivismo, dunque di prevenzione, dunque di lotta, senza dubbio, ma ripeto, la trasformazione del territorio non può che essere comune, non può che avvenire tutti insieme, ognuno nei propri ruoli, non vi è dubbio, ma costruire un'opera collettiva e il territorio è un'opera collettiva. Questo è il primo punto su cui voglio combattere ed è il punto essenziale di questo ragionamento, quindi prendo spunto da questa iniziativa, però per lanciare un messaggio un po' più forte da parte dell'amministrazione che non riguarda semplicemente il terreno della democrazia e dell'arquecitativa, ma per quello che mi riguarda, riguarda innanzitutto la complessità dell'architettura, la complessità delle lente, tutte le lente sedimentazioni sul territorio, le trasformazioni improvvise, cioè tutto questo non può essere unicamente affidato ad un'amministrazione, non è un discorso di categoria, ma gli architetti sanno quanto sia importante la collaborazione e le istituzioni sanno quanto sia importante una leale cooperazione tra enti, associazioni, istituzioni, il territorio non è soltanto l'opera di alcuni, è l'opera di tutti e quindi poi su questi temi io credo che sarà necessario, assolutamente necessario rincontrarci. Grazie. Scusa per un veloce, giusto un minuto però volevo intervenire, no ma non credo che non ci sia bisogno per i due interventi che sono stati fatti prima, io anche sono convinto, ma avremo altro modo e altre occasioni anche per parlarne, anche io sono convinto che esista abuso e abuso, sono convinto, d'altra parte queste cose sono in studio oggi e sono anche sotto osservazione, ma anche in ambito scientifico, anche nell'università e su questo si ragiona moltissimo, ma avremo un'altra situazione, non è questa la sede per, e sono molto convinto di quello che veniva detto, quanto veniva sostenuto prima, vale a dire una questione anche di un territorio ipervincolato, non sempre, i vincoli sono garanzia di tutela, non a caso le sovrintendenze non parlano mai di vincolo, ma parlano di normative di tutela, però quando noi iniziamo a stratificare una rete tale, una rete tale, ecco questo è un dibattito che lo si è condotto soprattutto negli anni Ottanta, sul finire degli anni Ottanta noi sappiamo anche che non è garanzia di anti-abusivismo, quindi e su questo io invito proprio gli architetti, e l'invito molto è perché andiamo a monte così anche nelle questioni dell'abusivismo, perché a Valle, e io ringrazio molto anche la presenza qui, perché a Valle lì si combatte queste cose, però bisogna anche tutti insieme, probabilmente far sì che tutto questo non gravi, ecco fare un passaggio anche a monte di questa situazione, e allora noi dobbiamo aprire dei tavoli con le sovrintendenze, li dobbiamo aprire perché ci troviamo in una interpretazione anche di quelle che sono le normative di vincolo, che a mio avviso rischiano per un eccesso, rischiano anche di andare a detrimento addirittura del motivo stesso per cui il bene viene posto sotto tutela, e l'eccessiva complicazione che noi abbiamo in queste situazioni, forse oggi ne dobbiamo riprenderla e rimetterla sotto studio, però io credo che in questo, ma mi ci metto anche io, ecco proprio non voglio parlare di questo, mi ci metto anche io come architetto, cioè io penso che la nostra categoria degli architetti in questo abbia perso delle occasioni molto importanti e abbia smesso di parlare, perché noi dobbiamo lavorare su che cosa oggi debba essere il concetto di un vincolo dinamico che consente alle città di poter entrare, parlo della città di Napoli, entrare a pieno diritto dentro la contemporaneità, di non vivere dentro delle immagini di cartolina soltanto, di non vivere dentro unicamente una condizione di monumentalità che viene a tutti i costi rilanciata, perché noi sappiamo che tante cose anche che sono scritte all'interno dei piani regolatori, noi vincoliamo una serie di cose, ma se poi andiamo a guardare che cosa stiamo vincolando, alle volte vincoliamo perfino abusi e vizi. Allora noi forse su queste cose dobbiamo tornare a ragionare e invito in questo un lavoro davvero degli architetti di cominciare anche a discutere e a far sentire la propria voce all'interno delle città, di una città come quella di Napoli, per tornare a ragionare su che cosa debba essere il concetto vero di tutela, perché qua nessuno di noi è contro la tutela, ma attenzione a che questa tutela non diventi a un certo punto una camicia di forza e non diventi uno strumento per anche l'abusivismo in qualche modo e perché poi tutto questo diventa anche oneroso per le amministrazioni, quando prima parlavo di una leale cooperazione tra enti, istituzioni e associazioni, naturalmente significa che sui concetti di che cosa vuol dire oggi la tutela dello spazio pubblico, la tutela dei monumenti, bene su questo anche noi dobbiamo poter dire la nostra e quindi invito in questo senso un lavoro congiunto e invito anche gli architetti a far tornare a sentire la propria voce perché gli architetti hanno sempre potuto dire tanto su queste cose e a un certo punto in momento me come architetto innanzitutto al centro di questa discussione abbiamo un po' perso l'abitudine anche a intervenire nei dibattiti pubblici, a dire la nostra, a proporre anche delle revisioni, non esiste soltanto l'aspetto della repressione, quello ci deve essere, però dobbiamo fare attenzione a non affidarci soltanto alle repressioni, scusate, ma l'intervento non esce, per cui grazie.